Rigorista? Secondo me ne abbiamo più di uno. Scamacca, Riteghi, Barella, Di Marco. Poi secondo me li sa battere Calafiori. Secondo me li sa battere Giorginio. Se ne può battere uno o due perché non si va a Rigorista. Non c'è un Rigorista che dici. C'è uno di questi qui. Perché poi quando si va lì sui Rigore se ne dice sempre uno barra due. Perché poi quello lì che non se la sente, quello che va a battere il Rigore. Bisogna sempre avere quello di scorta. Per cui non dite re o quanto. Per il mister, ci sono partite tempi di esami di maturità. In cui uno decide come presentarsi di fronte a questi esami. C'è chi sceglie la gravatta, chi sceglie le sneaker. Ecco, di fronte a una partita come questa che è anche un po' in gioco la sua identità tecnica. Il suo imprinting su questa avventura azzurra proprio di fronte ad un avversario così prestigioso. Noi siamo vestiti da Giorgio Armani. E Giorgio Armani è conosciuto in tutto il mondo. Per cui si va lì con lo stesso abito tentando di essere lo stesso. Gli stessi, poi è chiaro che dobbiamo mantenere quella voglia matta di fare la partita. Quella voglia matta di misurarsi contro una delle scuole calcio più forti del mondo. Quello che non si vuole avere, poi quando si uscirà, sono i rimpianti di non aver provato a fare le nostre cose. Sarà più difficoltoso sicuramente. Però si va lì vestiti bene e disposti a sporcarsi gli abiti se ce ne fosse bisogno. Prego. Per lei è se è un derby lontavolta con la Spagna. No, non è un derby. Questo per me sono tutti i derby. Quando gioco un europeo sono tutte finali, tutti i derby, tutte partite che non mi ricapiteranno più. Per me queste partite capitano e passano per non ripassare più. Per cui gli do il massimo dell'attenzione. Lei ci può mettere qualsiasi cosa vicina. E poi noi tenteremo di rifare la stessa partita che abbiamo fatto con l'Albania. Nel senso che vogliamo andare a misurarsi anche con una squadra forte contro la Spagna per vedere poi quale sarà il nostro livello di calcio contro una delle scuole più forti che ci sono. Abbiamo sempre tentato di fare così. Ora valuteremo insomma anche contro squadre forti che abbiamo giocato nelle qualificazioni abbiamo tentato di fare questo. di andare a giocare un calcio propositivo, calcio fatto di possesso palla. Io sono convinto che se si dà in mano il pallino agli avversari noi se ne esce male da questa partita qui. per cui si tenterà di fare la nostra partita, ogni tanto di comandare anche il gioco. Vedremo se siamo così bravi oppure no di farlo contro una delle scuole più riconoscibili. 分endo queste cose نا ci sono arguably seduta condemned vedremo